Antonio Conte questa volta ha sbroccato in maniera definitiva dopo il pareggio subito in rimonta contro il Southampton dal suo Tottenham che era in vantaggio 3-1. Rigore nel finale che ha detto Conte secondo me non c'era ma non dobbiamo parlare di questo e quindi 3-3 con i tifosi degli Spurs nello sconforto, nella rabbia, nella delusione e non è la prima volta questa stagione. Un Tottenham che è già fuori agli ottavi dalla Champions League ma soprattutto che arranca in campionato con grande difficoltà nel posizionarsi tra le prime 4, obiettivo stagionale. E Conte ai microfoni dopo la partita è stato chiaro, netto e dirompente. Sostanzialmente schivando l'alibi del rigore è andato al cuore del problema dal suo punto di vista e se l'è presa pesantemente con i giocatori. Ha parlato di giocatori che giocano per se stessi e che non hanno il fuoco dentro. Se avessero avuto il fuoco dentro non sarebbero stati eliminati dalla Coppa Nazionale, dalla Champions League e non avrebbero subito questa rimonta contro il Southampton e avrebbero vinto. Ha parlato di giocatori che non si impegnano abbastanza, che non dimostrano ai tifosi quello che i tifosi meritano. E ha parlato anche di una mentalità che va avanti da anni prendendosela anche con la società. Ha detto se negli ultimi vent'anni con questa presidenza si sono alternati tanti bravi allenatori ma il Tottenham non ha mai vinto nulla, è colpa di chi ha gestito la società o di tutti questi allenatori. E ha parlato appunto di una mentalità radicata nel Tottenham per cui non si gioca per il più alto livello. I giocatori preferiscono una zona di comfort in cui devono giocare senza troppe pressioni, senza troppi stress, puntando non al massimo ma sostanzialmente a sopravvivere. E questo dice per me è inaccettabile, non mi è mai capitato nella mia carriera di avere giocatori così disinteressati, così poco concentrati sui massimi obiettivi e appunto dediti a raggiungere obiettivi intermedi, come può essere la qualificazione all'Europa League. E dice se siamo questi dove vogliamo andare in Champions League, non ha senso parlare di Champions League, possiamo essere settimi, addirittura decimi. E se l'è presa con i giornalisti che quando gli chiedono frequentemente nelle conferenze stampe, nelle interviste del suo contratto in scadenza a fine stagione, secondo lui offrono un alibi ai giocatori per impegnarsi ancora meno. Un Conte in rottura totale quindi con il Tottenham. Di rinnovo si è sempre parlato poco, c'è sempre stata molto forte l'ipotesi di un suo addio a fine stagione e è sempre stata raccontata, soprattutto in questi ultimi mesi, la sua fortissima voglia e determinazione di ritornare a lavorare in Italia. Ma il problema di Conte che lascia il Tottenham forse è il minore dei problemi in questa situazione descritta dall'allenatore Salentino. Perché Conte ha anche detto questa situazione va avanti da molto tempo e finora ho evitato di parlarne ma adesso basta, bisogna tirarla fuori. Ecco, su questo è fortemente attaccabile. Perché se finora hai taciuto su una circostanza così rilevante dovresti spiegare perché l'hai fatto e perché ne parli proprio adesso. Tra l'altro scaricando quindi la responsabilità su altri. Anche se queste dichiarazioni di Conte implicano inevitabilmente una responsabilità per lui. Perché se i giocatori non lo seguono, non si impegnano al massimo, evidentemente è anche lui il problema. O una parte del problema e quindi può essere una parte della soluzione andandosene. Però, per quello che dice Conte, il problema principale rimarrebbe. Una società che non si assume la responsabilità di come ha formato la squadra ma anche a livello di mentalità e dei giocatori che non hanno la mentalità giusta per il Tottenham. Quindi una contraddizione nelle parole di Conte si potrebbe facilmente trovare. Dice non parliamo dell'alibi, del rigore che secondo me non c'era alla fine e non offrite alibi ai giocatori circa la mia scadenza contrattuale. Poi però lui, per quanto riguarda le sue responsabilità, crea l'alibi dei giocatori che non hanno la mentalità giusta. Discutibile, quanto meno discutibile questa esternazione polemica di Conte dopo il pareggio col Southampton. Ma il dibattito nella tifoseria degli Spurs è diversificato e direi molto serio e ben argomentato. Ci sono infatti tifosi che danno pienamente ragione a Conte e che dicono che finalmente è arrivato a dire quello che loro, tifosi, notavano e affermavano da anni circa i giocatori che non si impegnano abbastanza. E si fa anche il nome di Kane che si spera che se ne vada per risanare anche un po' la squadra e cambiare un po' la marcia. Così come tra i tifosi ci sono quelli che nel dare ragione a Conte se la prendono con la dirigenza. Infatti l'hashtag Levi Out va avanti da molto tempo sui social con alterne vicende ritrovando vigore di tanto in tanto. Poi ci sono anche quelli che scrivono Conte Out, rivolrebbero Pocettino, vorrebbero comunque l'esonero di Conte e quindi gli danno la maggiore responsabilità della situazione attuale. E mi ha incuriosito qualche opinione di qualche tifoso del Tottenham che dice beh non è un problema non arrivare tra le prime quattro e qualificarci per la Champions perché con una proprietà come quella Levi che punta solo ai soldi meglio arrivare quindi così si rompe il giocattolo. E la cosa interessante è che tra i tifosi che danno ragione a Conte se la prendono con Levi, quelli che se la prendono con i giocatori e quelli che se la prendono con l'allenatore nessuno viene aggredito da altri tifosi. Cioè sono tutti liberi di esprimersi anche in maniera categorica contro qualcuno. Non c'è qualche altro tifoso che li aggredisce e gli va a strappare la patente di tifo in faccia. Beati i tifosi del Tottenham. Va da una situazione come questa come se ne esce Conte probabilmente andrà via e resteranno quindi eventualmente i problemi del Tottenham. Ma restano anche i problemi di Conte perché un allenatore che quando arriva allo sfinimento e cioè in genere già alla seconda o massimo terza stagione della sua esperienza in panchina comincia a sbroccare in questo modo anche i prossimi che dovessero fargli un contratto, i prossimi dirigenti con cui dovrà lavorare sono avvisati. Che finisce sempre male con Conte finisce sempre piuttosto male e questo inizia ad essere un suo problema, un suo difetto, un suo limite, qualcosa su cui dovrebbe lavorare e che inizia ad essere veramente irritante. Come la pensate? C'è spazio per il dibattito sereno e rispettoso. Cerchiamo di applicare il modello tifoseria degli Spurs. Grazie a tutti.